ciao ragazzi sono happy bentornati su mega wow ragazzi tranquilli tranquilli la cantina di papà è ancora piena di vhs con i suoi giochi di prestigio mi state iscrivendo in tantissimi ci avete proprio preso gusto eh oggi vi insegnerò una pozione per creare delle bolle di sapone magiche quello che vi occorre è un bicchiere pieno d'acqua un cucchiaio un cucchiaino sapone liquido per piatti concentrato glicerina liquida filo di ferro pinze e piccola bacinella ci siete tutto pronto allora prendete un bicchiere d'acqua pieno per tre quarti e aggiungeteci due cucchiai di sapone liquido per i piatti e un cucchiaino di glicerina liquida che potete trovare in farmacia ecco pronta la pozione mescolatela piano piano senza far formare la schiuma e lasciatela riposare per un paio di giorni ma manca ancora qualcosa ragazzi la bacchetta magica per fare le bolle potete crearla col filo di ferro piegato con la pinza cercando di creare una stella o la forma che più vi piace ora avete la bacchetta la vostra pozione è pronta non vi resta che intingere e soffiare bello eh beh a me dicono che funziona non le vedo però basta crederci e a voi è piaciuto mandatemi i vostri video su instagram i più belli li condividerò ciao e a presto mega wow yeah ciao